What's up? What's up? What's up? I was shot! Non voglio poterlo sintonare di nuovo mio fratello! Accidenti diavolo, vuoi intervenire? Portati per favore, come bello mio! Sono stato molto coraggio, ci sono riuscito! È tempo di lottare. Primo round. Combattete! Mi ha uccido sempre le persone che mi hanno fatto del mondo. 5 ore! 5 ore! 5 ore! 10 ore! Nazarò! 8 ore horsepower! 10 ore reached. Non voglio muotere! 5 ore! 10 ore! 10 ore! Sei un magnifico esemplare umano, servirai egregiamente come cavia per l'esperimento che ho progettato. Rialzati e combatti. Secondo round, combattete! Io sono un genio, il mio dito fra poco toccherà il punto critico. Io sono un genio! Volevo una plaaah! Io sono un genio, io sono un genio! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! E' un genio! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! Volevo una gloria! Volevo una plaaah! Volevo una plaaah! Volevo unaンド Audubator! Volevo una deal, ho rid Politiche! Volevo un gran progetto! Volevo unaiferoria! Rialzati e combatto. Guardo. Combattete! Rialzati e combatto. Rialzati e combatto. Rialzati e combatto. Rialzati e combatto. Rialzati e combatto.